Musica Fino a qualche giorno fa a Campobasso si telefonava col campanello e le signorine Il ministro Iervolino inaugura la rinascita telefonica del Molico Ha chiamato Roma, fa sentire a degasteri gli applausi dei presenti La centrale interurbana ha raddoppiato il numero dei circuiti I selettori compongono automaticamente i numeri della rete cittadina 800 per ora, aumentabili a 3000 Laurino e poi Rotello e poi tutti i 136 comuni della provincia Sono collegati ormai dal filo, oltre che dalla strada lungo cui il ministro li visita All'insegna del telefono, nuova per molti di questi paesi 48 soli fino al 1940 avevano il privilegio dell'impianto Nell'interno dei locali si ode un linguaggio nuovo Prold, lente, chi parla? Ma per gli affari e gli amori c'è sempre il segreto della cabina All'insegna del telefono, nuova per molti di questi paesi